Siamo alle orazioni di bene. Tutto è pronto. Cambianci è perfetta. Quando inizia, per favore, non passare davanti perché io faccio video. Sì, tutto è pronto. Infatti ve lo metto a basso. Tutto è pronto. Benissimo, sai, lo dai. Giriamoci. Non è fatta la scuola. Eh, penso di sì. Grazie. Grazie. Ma non vi mettere davanti. Sessanta e trecce. Sessanta e cinquecento. Sessanta e cinquecento. Sessanta e cinquecento. Sì, è un momento. Sì, è un momento. Sì, è un momento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 70. 80. Mirko. 80. 80. Aspetta, 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 aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta un secondo. Ok, grazie. Larghetti, parto di flottino. 88 e 300. Con Lovic. E cosa dice Lovic? Adesso. E voi due. 88 e 300. A più alto. Non rimedi. Aspetta. 11. Eh, ma totale. Sessantadue. Sessantadue. Ok. Ok. Kozobic. Sandon. Sessantadue. 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 61 e 800 61 e 8 61 e 8 62 e 8 62 e 8 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.